Ma perché è sto Caps Lock? Ma questi manco... Ma che vuol dire? Tu vai a leggere l'articolo, guardate, eh. Ultimi boados dell'Italia ferragnizzata. Il matrimonio tra Fedez e Chiara era finito da tempo. Quel poco è rimasto in piedi dopo il ciclone Pandoro. Era De Ferragnez la serie, messa in onda da Prime Video per due stagioni. Questo è per l'indicizzazione. Se ne scrive tutte le parole chiave. Non stanno dicendo niente, è un articolo fatto per... Fate cliccare. Che è sta merda? Perfetta, ci sono tutte le parole da tag. Eh. Quindi, un giornale che fa così. Io, cioè, ovviamente, come vado? Come posso andarmi a fidare della voce iniziale? Ho pure trovato. Chiara, Berlani e Fedez stanno per divorziare... It's my dog. It's the girl. E come? Che hai detto, Marco? It's the... Eh, lo so. Vabbè, uno quando dice cose cazzate, io voglio aprire il microfono. E ovviamente... Sto D'Agospia, che sarebbe... Cosa? Come si chiama? Corona? Il sito di Corona? No, chi era D'Agospia? Non lo so. Una spia, no? Chat, help me, please. D'Agospia. Ciao, nonna. Che finita l'ondata, anni 90, dell'Italo Dance. Cioè, l'unica cosa con cui riesci a, diciamo, a rinnovarti e a reinventarti è questa. Ma faceva delle canzoni da paura. Cioè, ci ha reso famosi in tutta Europa, in tutto il mondo. Ti ricordi? L'amour toujours. Sì, è vero. Di Cristo, penso, lui e gli FS65, fra quelli che ci hanno portato alto proprio il nome dell'elettronica italiana nel mondo. E mo' sta monnezza. E mo' invece fai... I gossip. Fai dei Dago Report, i gossip. E la cosa strana... È triste, è triste. Mo' sta a girare sta voce, ma per l'appunto è una voce... Ah, è questa, quindi, la nuova pianta. Ma cazzo, Stati, non è lui. D'Agostino, si chiama, non è lui. È lui, regà. Cioè, non è che si chiama D'Agospia. È D'Agospia del coso, ma si chiama D'Agostino, il tipo. Era un side project. Io ancora che parlo con loro. Infatti, pure mia nonna ha scritto in chat, dicono, ma non credo. Eh, appunto. Perché non è sicuro. Mo' è uscita questa notizia. Che sia D'Agostino Gigi, dici, non è sicuro. Non è sicuro. No, che si siano lasciati. Che è lui, penso... Che è stato Gigi D'Agostino? No, 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 intendo Fedez. Stava con Gigi D'Agostino. Stava con Gigi D'Agostino? No, non sapevo un cazzo. L'ho convinto di essere con la Ferragni, lui. Vabbè, comunque... Ma sei sicuro? Ma io, guarda, non voglio sapere niente di queste cose. Stavo con nonna Lucia. Cioè, basta che a casa loro... Mi stai a confondere troppo, sì. Dai! D'Agospia lancia la bomba. Due punti. Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Il rapper è andato via di casa domenica. Quindi, appunto, questa testata, rivista, chiamatela come volete. C'è qualcuno che petina Fedez, quindi che vede i suoi spostamenti e sa quando esce di casa, quando no, e poi riferisce ad altre persone. Questo qua è stalking, scusatemi. Mi sa che Instagram... Se fosse vero, sarebbe stalking. Ci manderanno Corona, che mo cerca lavoro ultimamente, visto che ha finito le sponsorship da quattro sordi. Ma comunque, quindi, è ufficiale la notizia di Dago Snitch, insomma... Eh no, è quella la cosa, è una voce. Eh ho capito, ma è una voce? Ma di solito questo non sbaglia mai, eh? Dago Spia non sbaglia mai. Sbaglia mai. È difficile, perché non... Sbaglia. Guarda, allora... Secondo me c'ha qualche talpa... No, c'ha qualche talpa... Dall'interno, secondo me. Dici, uno dei due. Cioè... No, uno dei due. Magari avevo un collaboratore, un parente, dei due. Leggiamo, perché appunto dobbiamo informarci per scoprire la verità. Questa è la nostra missione. A scriverlo è il sito Dago Spia. Eh? No, dico, se c'è una talpa, contattiamo la... Ok, qual è quell'ente che si occupa da animali, roditori? Eh... Maria Sofia. Il WWF. Il WWF? Da non confondere con la WWF. Ah beh, sì, giustamente. A scriverlo è il sito Dago Spia. Secondo cui i rapporti tra i due si erano raffreddati già dopo il Sanremo dello scorso anno. L'influencer si sarebbe riavvicinata al marito solo in seguito ai suoi problemi di salute. Madonna, che cose brutte da dire. Sulla relazione avrebbero pesato i problemi giudiziari di Ferragni. Tutte congetture. L'influencer... Però beh, è plausibile, ma so congetture. L'influencer spiegano dal suo entourage dall'ANSA... Entourage? Sì. Non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria. Ma cosa? È un periodo obiettivamente difficile, spiegano all'Agenzia. Data l'inchiesta giudiziaria milanese su cui è indagata per truffa aggravata. Voci di crisi. Già nello scorso febbraio erano uscite le prime voci che parlavano di una crisi fra i due. Poi Fedez aveva smentito... Tu la mia calamità, io la tua calamità. Ma stiamo a rendere conto che stiamo a leggere? Cioè, volevo le cazzate. Ma parte è cringe, ma poi è proprio pornografia dei cazzi dell'arte. Sì, sì. Da una spia veramente... Sì, però, allora, è fair play solo perché loro si sono autopornografizzati da quando esistono. Ma non ha già il cazzo. Lo capisco, lo capisco. Ma infatti io non ho neanche particolare stima della serie Ferrari. Non è che me la vedo, non è che dico, ah, che bello. Mo' mi metto proprio un portrone che quanto vuole me guardi Ferragnez. Non l'ho mai guardato perché... Hanno trasformato la loro coppia. Mi frega magari dell'artista, singolarmente, Fedez, quando faceva qualcosa di interessante, ma non mi frega di quello che fanno loro a casa loro. Proprio non mi fai... È capito, però sono loro che vogliono fartelo fregare in tutti i modi perché il lavoro è questo. Certo, è normale. Quindi a me dispiace umanamente perché posso empatizzare con una coppia in crisi. Chi non può empatizzare con il fatto di essere una coppia in crisi? Chi starebbe malissimo se tutta Italia parla della tua coppia in crisi? Chiunque starebbe malissimo, ma non chiunque, anzi, nessuno è la coppia più famosa d'Italia. Ci ha creato la serie, ci ha creato il merchandising, ci ha creato... Sono gli unici che corrispondono a questa descrizione. Eh, quindi sono gli unici ai quali può capitare sta cosa. Infatti, guarda, io non sono d'accordo neanche perché non è l'unico esempio al mondo. Se ci pensi gli Osborne, la serie dei Kardashian, sono situazioni che portano all'intrattenimento dentro le tue segrete stanze, dentro anche i tuoi litigi personali più o meno confettati che possono essere, e intaccano un privato che purtroppo ormai non è più tale, ma che io rimpiango, sarò boomer, ma rimpiango i giorni in cui era tale. Mi dà un po' fastidio che adesso bisogna arrivare... Che ne so, ci avete presentato la trasmissione del primo appuntamento? Una volta era una cosa carina, si mettono al tavolo, si facevano le prime conversazioni, sono quelle più carine, no? Una coppia dove tu cerchi... Adesso il primo appuntamento hotel, che fanno vedere quello, e dopo vanno in hotel a scopare! Non fa bene fino a quando si chiude la porta, poi escono... Chi esce prima? Ah, sono scelti dalla stessa stanza, mi sa che hanno fatto colazione a letto... Sti cazzi, ma che schifo è! Ma si è pornografizzato, diciamo, tra virgolette. Eh, perché ormai la gente è sempre più morbosa, vuole sempre sapere di più. Eh, lo vedi, due anni all'edizione questa, no? Carità del Dio! Mi sarei trovato abbastanza in difficoltà, devo essere... Io non sarei uscito, cioè faccio come i film, uscivo dalla finestra, capito, da... Stai su una nave, però! No, questo qua dovevo te... Quello dava una nave, era figo, con i mortacci del Covid, io mi sono andato a più al Covid, e là io, stavo a entrare su una nave, e mi sono beccato il Covid. Ma pensa a te! L'hanno fatto il tampone, lì mi sarei divertito, mi avevo fatto tre o quattro giorni in crociera, in vicina, sauna, cinema, quello, quell'altro, tutta gratis. E ti dicessi a me che mi serve, ormai con tutta la pornografia che ho visto negli ultimi vent'anni, cosa mi serve a me per farmi diventare cazzo barzotto quando guardo un porno, ma restano. Con l'inquadratura sulla porta che si chiude, e loro, ma questo è un trenzio, ormai si sta attaccato al soffitto, con cinque ragazzi spruzzano con l'acqua. Che cazzo? A brevissimo, almeno di venti giorni, ci saranno dei Divorzani. Che ci starà? Cosa? Divorzani. Ah, il Divorzani. Ok. Quello su Netflix, tipo con Johnny Depp. Grazie, cosa? Grazie, Slim Charles. Grazie mille. Diversi segnali che hanno preoccupato i fan nei giorni scorsi, dalla fuga di lavoro a Fedez a Miami, però sarebbe anche Miami, quindi questo direi che confuta la voce del divorzio, e la sua assenza nella nuova foto profilo di Chiara Ferra, ai 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 ai, non sta nella foto profilo, fino alla scomparsa dell'anello nuziale sul dito di Chiara, questo già... Beh, i due sono sposati il primo settembre 2018, vabbè, ok, sti cazzi, hanno festeggiato i cinque anni di matrimonio, hanno due figli, Vittoria e Leone, grazie, perché voglio conoscerla meglio questa famiglia, perché è un po'... Nessuno la sapeva, tutta la cosa. Sono un po' timidi, capito? Ferragni e il TikTok sulla sfiga. Qualche giorno fa l'influenza aveva postato su TikTok un video, posto questo suono perché sono pieno di tutte le sfige in questo video, ma è una zoia. A cosa alludeva? Ma forse agli ultimi risvolti delle indagini in corso durante... Oppure a cose più banali. Cioè, lo fanno anche sapendo queste cose, La procura la chiama, le chiama con un nome diverso, commenta un follower. Chiara, sì, positiva, non vi manca nulla. Ma che cazzo è? indagini non è fortuna. Ma mo' lo vediamo, eh. C'ha i sordi, ma sorridi. Oh, il cloud, una grande opportunità. Per il retail. Per il retail. Parole così. Ma che figata, oh. Cioè, posso veramente fare shopping? Da casa, con tanti clienti. Soluzioni. In America con i droni, a tristura. No, vabbè, siamo veramente nell'epoca migliore. Posto questo suono perché sono tutte le sfighe e dico, che suono è, scusate? Ma che è una puntata del Upus, eh. Dio, che paura. Cos'è sta cosa? Terrificante. Cosa abbiamo visto? Chi lo faceva il bambino? Non ho capito, regà. Non ho idea. E questa è una cosa rilevante in ambito giornalistico. Non ho capito. Rimetto, sì, sì. Beh, mazza, sembra tipo non lo so. Cos'è? Vabbè, questo cazzo ne sa del giornalismo. Lui si è un po' dei transienti, dei bassi, in levare, dei side change. Quello lui sa quelle cose là. Infatti è un po' cazzino. 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 Intanto grazie a Slim per il sapo. Oddio. Un po' cazzino. Chi è l'assistente? Un trend di TikTok. TikTok. Ok, regà. Scusate, siamo boomer e siamo anche felici a questo punto. Perché è importante chi è l'assistente di Fedez? Intanto proprio a causa dell'articolo si chiedono chi sia Eleonora Sesanna, l'assistente personale di Fedez. Forse l'abbiamo anche conosciuta. No, no, no. No, no. No, no. No, forse l'abbiamo conosciuta. Ok. E che vogliono dico? C'è tipo un amore segreto. Dai, se insinuano sta cosa. No, non lo so. Stanno insinuano pure questo, Asimo. È molto. Non schifo totale. Eh, ti rendi conto che sono voci e mondezza. Se guarda caso a Miami con l'assistente. Eh, perché l'assistente. A Miami poi stacco con l'assistente. Con l'assistente donna, ricordiamo. Sicuramente hanno scopato. Fino a due giorni fa era gay. Infatti. Fino a due giorni fa era gay. Quando era utile che era gay, era gay. Ha un team. C'è anche altre persone che viaggiano con lui. Ha un team. Sì, se è donna è vergognoso. Si sposta con un team e guarda caso nel team ci potrebbe essere l'assistente. Ma com'è sta assistenza? Se vuoi vedere un attimo. No, non c'è tra noi. L'assistente. No, no, vorrei dire che ti assiste. Pensate. No, c'è stranezza. C'è l'assistente insieme. Sì, l'abbiamo capito. Eleonora Sesana ha un profilo Instagram chiusissimo. Quindi, pomami, dispiace. Ce l'ha privato. Lo so che è sirosi quando tu conosci una ragazza. Il petto notturna saltata. A voi, spizza profilo privato. Volevo capire chi è. Anzi, che mo' hanno messo la funzione che clicchi sull'immagine del profilo anche del profilo privato e si allarga. Cioè, prima tu gli fai un screen allarga. Non starà su Google se tu sei sana. Ma sì, ma si vede anche... Ma se c'è il profilo chiuso non si può vedere né i suoi post né chi segue o chi la segue. Tipo, se tu puoi vedere se c'è dei follower spazi non lo puoi aprire e vedere. Eh, sì. Non si sente fai riuso. O fai riuso. E poi, ma, d'amore, rappresenta il signor Mauro Medio, secondo me, che è... Ma è la curiosità, curiosità. Ma io la vedo come è fatta. Sì, sì. Ah, ma è carina. Dice un po'. È carina. Ti capisce poco. Sono delle foto un po' ambigue. Ambigue. Ti posso dire l'unico commento così sessista sull'aspetto di una donna che mi interessa è quello del pela. Perché lui è specializzato in questa... Non perché il tuo non valga, però ormai noi siamo abituati col top del top. Ma c'è una foto ambigua, lei che si ingroppa Fetez, lo scopriva adesso. No, perché guarda, guarda che foto c'è. c'è lei con le orecchie d'elfo, cioè... Vabbè, è cosplayer. Un po' strano, no? Un po' strano addirittura. C'è un cosplayer, aggiornate, stammero 2024. Ma non è un cosplayer perché è modificato. perché non lo vediamo questa tizia. No, no, no. Non la fammo vedere. Non lo so, curioso. A parte che, ad esempio, se mi stanno con la finestra di Davide, per dire, però vabbè. Perché se è privata. Questa è quella che è andata a Miami. No, ma infatti, cioè, non rompiamo le persone inutilmente. Però perché la citano? Perché? Solo per il fatto che stava a Miami? Stava a Miami con lui. Non ha senso. Da 2016 a 2017 ha frequentato il Master di Comunicazione e quindi... C'è una pubblicità, che è? Prendetela a lavorare. Ma che è? Ma malgrado Fedez provi in vano a inquadrarla nelle sue dirette, è piuttosto riservata e schiva, è comparsa per pochi istanti in una serie di video. Vabbè, quindi, cioè, l'hanno scritto solo per quelli che stanno a pensare che Fedez è una donna. Sì. Una donna a caso che è vicina. È una vergogna. Non neanche c'è una vera insinuazione là. Soltanto te lo fa pensare a te, capito? Sì. La gente ha pensato perché ti è scritto tanto chi è lei. Chi è? Probabilmente c'è una storia. No. Grande mossa. Tanta gente è stupida. Avendo capito la tenuta proprio della testata da Gospia che mette ste foto strane c'ha mille pubblicità l'ho zoomata pure perché c'ha tutte appunto robe strane ho aperto Open che parlava dell'articolo di da Gospia per essere imparziale però se cerchi tipo da Gospia Fedez io prima ho trovato e ho capito proprio che la tenuta ripeto desta testata questo secondo articolo di Dago Spia video la prima reazione di Chiara Ferragni al Dago Scoop questo no è come quando Corona fa ah vedi mi hanno sentito mi hanno risposto quando in realtà magari la persona che ha citato Corona neanche se ne è sbattuta se ne è sbattuta al cazzo no ma vedi una cosa che fa e fai sì che l'ha fatta per merito tuo ti spiego momento di gloria tipo la prima reazione di Chiara Ferragni al Dago Scoop sulla fine della reazione con Fedez un filmato di lei in palestra questa è la reazione al Dago Scoop secondo loro due chiedi no ma ma rivediamolo questa è una risposta ufficiale di Chiara Ferragni a Dago Spia a me sembra abbastanza esaustiva perché è tipo Beck e Titt mi sono ributtata in piazza l'hanno interpretata come tipo però potrebbe essere Beck ad allenarsi l'unico hit a cui può essere riferito in questa storia è la palestra il Pilates per essere più esatto rivediamolo perché per noi è una bella storia esplicativa sono migliorati i piedi o sto io? sempre quelli no sempre quelli ma che è una risonanza magnetica senza il turno l'ho peggiorato io la risonanza magnetica sì sì ma non lo so penso che se sta allenando a faccanottaggio io vedrei sto contenuto fino a stanotte raga ma c'è una voce ma c'è una aspetta aspetta è sempre il cuore che cazzo è uno che ha ruttato hai visto quando ingoi rotto o sarà Rubino è Rubino era Rubino è che Chiara no è il respiro di Rubino è il fisioterapista se Rubino ha conosciuto Chiara ci credo al 100% che lei si è innamorata di Rubino è quello che è successo rivediamola un'ultima volta ragazzi secondo me non abbiamo colto la risposta a Dago Spia capite no? il giornalismo cioè Chiara Ferragni mette sta storia e spawna questo articolo qua te ci clicchi e non c'è niente solo pubblicità quindi che testata è Dago Spia è un po' una testata ma questa è sempre Dago Spia? sì e loro che dicono guardate ci ha risposto ma cosa? ma non vi ha risposto ma cosa state dicendo? cioè che cazzo articoli fate? poi appunto ho aperto l'home page e c'era subito sta cosa vedi guarda un altro articolo ancora più recente che dice queste cose qua ultimi boatos dall'Italia ferragnizzata ma perché sto caps lock ma questi manco ma che vuol dire? tu vai a leggere l'articolo guardate ultimi boatos dell'Italia ferragnizzata il matrimonio tra Fedez e Chiara era finito da tempo quel poco è rimasto in piedi dopo il ciclone Pandoro era De Ferragnez la serie messa in onda da Prime Video per due stagioni questo è per l'indicizzazione se ne scrive tutte le parole chiave non stanno dicendo niente un articolo fatto per fatte cliccare che è sta merda perfetta ci sono tutte le parole da tag eh quindi un giornale che fa così io cioè ovviamente come vado come posso andarmi a fidare della voce iniziale ho capito ma come faccio come faccio secondo me cioè non mi posso fidare al 100% di una testata come non ti puoi fidare ormai di molte testate questo è il mio discorso e basta ho finito ma il giornalismo online è andato su questa direzione qui inevitabilmente ormai da anni già quando era cartace è andato Grazie per la visione